Assolutamente non per merito mio, ma per merito di donne e uomini che ci stavano lavorando da anni. Sapere che stasera uno dei mafiosi più pericolosi al mondo la passa in carcere e non tranquillo a casa sua. Fate un enorme appoggio alle forze dell'ordine di questo paese, a magistrati, a inquirenti, a giornalisti, a chi non ha mai mollato. Vedere portato via un uomo, perché uno che è stato condannato all'ergastolo non solo per le stragi di Falcone e Borsellino, ma lo dico da padre, perché è riconosciuto colpevole dalla giustizia italiana di aver sequestrato, torturato e sciolto dell'acido. Un bambino merita di marcire in galera senza più vedere la luce di sole. Sono garantista con chi merita di essere tutelato dal garantismo. Certe persone per quello che mi riguarda, io sono contro la pena di morte, per ferita di Dio, però chi ha sulla coscienza sono contro e rimango contro la pena di morte. Anche se pensando alla cattiveria, alla brutalità di certe persone, ti vengono altri pensieri che però lasciamo del cassetto perché a barbarie non si risponde con barbarie. Quindi grazie per me dal segretario della Lega essere qua in una serata a 27 giorni da una vittoria storica, emozionante.